Siete espressione di una chiesa che non è una superclinica per VIP, ma piuttosto un ospedale da campo. Una chiesa dal cuore grande, vicina ai tanti feriti e umiliati della storia, a servizio dei più poveri. Così Papa Francesco ha salutato gli 8.000 volontari, medici e aspiranti medici del CUAM, Medici con l'Africa, la prima e più grande ONG italiana per la tutela della salute delle popolazioni africane. Nata a Padova nel 1950, oggi il CUAM è presente in 7 paesi dell'Africa sub-sahariana. Dal sud Sudan alla Sierra Leone, dove il diritto alla salute è ancora un privilegio per pochi, ha ricordato il Papa, quelli che possono permettersela. E invece ha sottolineato la salute non è un bene di consumo, ma un diritto universale. Avete scelto i paesi più poveri dell'Africa, quelli sub-sahariani e le aree più dimenticate, l'ultimo miglio dei sistemi sanitari. Sono le periferie geografiche nelle quali il Signore vi manda ad essere buoni samaritani, ad uscire incontro al povero Lazzaro, attraversando la porta che conduce dal primo al terzo mondo. Questa è la vostra porta santa. Voi operate tra le fasce più vulnerabili della popolazione, le mamme, per assicurare loro un parto sicuro e dignitoso, e i bambini, specie neonati. Siete medici con l'Africa, non per l'Africa, ha concluso Papa Francesco, chiamati a coinvolgere la gente africana nel processo di crescita, affrontando le sfide quotidiane con gratuità e aiuto disinteressato, senza proselitismi e occupazione di spazi. Per questo ha chiesto loro di pregare perché il Signore mi faccia ogni giorno più povero. Grazie a tutti.